Per noi la Champions è al massimo, è rimasto l'ultimo vero appuntamento per rimanere tutti insieme. Il gruppo storico siamo io, Marco, Federico e poi c'è Simone. Cassano che è comunque un giocatore sublime a livello di fondamentali e di tecnica. Simone è un tipo che vive il calcio in una maniera passionale. Mercoledì prossimo ovviamente vedremo Roma-Real Madrid. Beh la vedremo qui, in casa mia come sempre, come una tradizione su questo divano. Ci sarà sicuramente anche Simone. Tribuna d'onore Roma-Real Madrid per te. E da solo? Io lavoro, c'è con due miei colleghi, vengono a prendere loro. Che gli dici a Mauro? Che dico... C'è una malaria. Ciao. Vieni. Simone. Mauro. Ma mangi qua o... Fammi ritorno a casa e ti chiamo. Mauro, non fa che non vieni però. Ma no, ti chiamo fra un po', ciao. Va bene. L'ho smarcato fino a questo momento, ho preso veramente un video. Cioè noi vediamo sempre i partiti dell'anno. Facciamo a Mauro, subito. Simone. 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 Cosa ci fai, bene? Lo vogliamo dire a tutto lo stadio? Ti sei venuto per un biglietto in nycura lupone. C'è il tratto così Però se è ancora in te Forgi un'erivocca Se forni lo è prendere E l'erivocca lo ti porta qui a casa mia Il mio divano Dove c'è il tuo posto Nelle partite di Champions A Zandai Grazie a tutti Grazie a tutti